Simo avevo un dubbio sono da cambiare continuo a correre corro e l'altra non è presa meglio vediamola eccola qui l'altra ho anche il cane che mi disturba qua a casa tra l'altro e non è da solo è da cambiare Riccardo Riccardo quelle scarpe sono totalmente consumate buttale via amici ben ritrovati questo è l'aggiornamento di alleno uno youtuber se siete qua per la prima volta non sapete cos'è questo progetto io ho allenato appunto Riccardo Zanetti che è uno youtuber italiano molto conosciuto in Italia e gli ho messo insieme una tabella di 18 settimane fatta su misura siamo partiti da pronti per fare questo test si parte cazzo boom 3 2 1 via mi raccomando tranquillo che deve arrivare alla fine test specifici sui 5 km l'ho accompagnato a diverse gare insomma l'ho accompagnato e l'ho allenato come dovrebbe fare un allenatore vedendolo sul campo vedendolo in gara dandogli consigli eccetera eccetera Riccardo prima non correva giocava a calcio faceva un po' di sport correva una volta alla settimana così tanto per fare oggi si può dire ha quasi finita questa tabella questa preparazione Riccardo è un runner vero e proprio andate a vedere il suo video perché ha appena corso 44 km ha corso tutta la maratona di già 40 km in 4 ore 15 minuti e 33 secondi ci siamo i crampi ci sono così in 4 mesi preparazione davvero tanta roba con lui siamo la settimana 16 di 18 ovvero ha iniziato la settimana di tapering prima di questa ha avuto 3 settimane di cosietta specificità poi vi metto sopra il link all'altro video così potete andare a rivedere tutto e sotto in descrizione invece il link alla tabella che ho condiviso 3 settimane di specificità che erano 713 14 15 dove praticamente si arrivava al picco dei chilometri infatti lui ha corso 100 km la settimana scorsa che è stato il suo picco anzi 101 per l'esattezza e adesso siamo invece in una fase calante queste 3 settimane erano fondamentali perché lui doveva esercitare il ritmo gara è fondamentale in queste 3 settimane che io chiamo di specificità di picco di lavorare sui ritmi gara quindi che cosa vuol dire? vuol dire fare dei lunghi con una gran parte di quel lungo ritmo gara io prevedigo fare per esempio in questo caso avevo messo 30 km con 5 km finali al ritmo maratona 35 km con gli ultimi 10 al ritmo maratona 37 km con gli ultimi 8 al ritmo maratona insomma lavori specifici di questo tipo poi abbiamo un altro lavoro specifico molto bello secondo me che erano i 4x3000 a ritmo maratona oppure i 2x5000 a ritmo maratona 10 km in soglia tempo run insomma allenamenti di questo genere molto specifici per farlo lavorare sui ritmi tapering che cosa vuol dire? 2 anzi 3 settimane si può fare 2 o 3 a secondo un po' di come si preferisce dove si va proprio a ridurre tantissimo la mole di km quindi da 100 lui andrà a correre 80 km la penultima settimana arriverà a correre 50 km e poi la settimana della gara una ventina più la gara quindi vedete proprio una drastica discesa però i lavori specifici rimangono anche se anche in questo caso si riduce ci sono dei 3x3000 a tempo in soglia ecco di solito nel tapering si fanno lavori un po' più brevi e un po' più veloci oppure per esempio 6x1000 ritmo maratona la penultima settimana quella praticamente che poi anticipa la settimana della gara questa è un po' la preparazione il suo sbaglio è stato il fatto che non ha seguito la lettera ai ritmi all'inizio non andava lento quando bisognava andare lento andava troppo forte e invece nella parte finale andava sempre a un ritmo costante calante soprattutto spesso e mai invece a rispettare il ritmo maratona che aveva preso in più nei lunghi eccetera che cosa mi aspetto io ora sicuramente non è pronto per fare le 3 ore e 30 le 3 ore e 40 proprio perché gli manca il lavoro specifico ha tanto fondo perché ha corso 44 km quindi l'ha dimostrato però gli manca la velocità secondo me perché si è espresso male negli allenamenti a mio parere quindi è difficile che correrà a 3 ore e 30 però sotto le 4 ore secondo me è un obiettivo raggiungibile comunque andate sul suo canale perché lui poi aggiorna anche la situazione come sta eccetera eccetera Riccardo adesso in Italia io sono in Inghilterra purtroppo non ci vediamo da un po' perché ha preso decisioni diciamo nuove rispetto al suo futuro e quindi non lo sto più vedendo non lo sto più seguendo direttamente e questo è anche un bel punto secondo me ovvero ragazzi se cercate un allenatore o un'allenatrice è importante che ci sia la vicinanza secondo me io ogni tanto vi condivido le tabelle vi dico che sono a disposizione però ecco io ne ho avuti tanti allenatori è importante che l'allenatore sia in grado di vedervi sul campo che sia in grado di controllarvi le scarpe che sia in grado di guidarvi soprattutto all'inizio Riccardo per esempio adesso è lontano da me non riesco a vederlo e mi ha fatto vedere la scarpa così e sono totalmente caduto dal cielo così non sapevo che le scarpe fossero così finite e le scarpe Riccardo sono finite non può correre con quelle scarpe perché rischia di farsi male ora quanto dura una scarpa da run? questa è la domanda classica che mi scrivete in tantissimi che vedo anche nel nostro gruppo su telegram eccetera le scarpe da running hanno una durata che dipende tantissimo dalla scarpa non è più come una volta che più o meno le scarpe erano un po' tutte uguali i materiali si utilizzavano simili quindi la durata era quella oggi le scarpe da running secondo me possono durare dai 300 km che lo so sono pochissimi però ahimè ci sono scarpe che durano 300 km addirittura meno ci sono scarpe che possono durare anche 150-200 km quelle più estreme, quelle da gara fino a un migliaio di chilometri io l'ho portata qualche scarpa a un migliaio di chilometri e non a caso ho qui con me una Pegasus perché questa è la scarpa che di solito io porto più avanti sia per l'età ma anche per chilometraggio la Pegasus dura tanto questa è la nuova 38 devo ancora farci la recensione uscirà a breve è nuova questa scarpa e ve la faccio vedere proprio per questo motivo questa è la scarpa nuova ci ho fatto giusti chilometri e faccio la recensione e sarò arrivato a 100 km quindi è una scarpa fresca ed è una scarpa che già vi anticipo sia la recensione arriverà a fare 800-900 forse anche 1000 km perché? perché è una scarpa ben costruita con dei materiali che durano parecchio cioè il materiale che utilizza Nike soprattutto per l'intersuola dura più o meno 700-800 km senza problemi la Tomaya anche è ben definita è finita è bella robusta e quindi ci può stare però la durata della scarpa dipende dalle condizioni in cui la utilizziamo se la utilizziamo col freddo col caldo sull'asfalto sul trail insomma tutte queste cose sono fondamentali e poi vanno ad impattare tantissima durata cioè la stessa scarpa indossata magari da Riccardo che abbiamo due si ricorsa totalmente diversa lui durerebbe molto meno perché lui per esempio consuma la scarpa qua sul tallone infatti avete visto nel video l'ha totalmente distrutta perché ha una corsa di tallone io invece corro più in avampiede e la mia scarpa non si consuma tantissimo tra l'altro vi faccio vedere questa invece è una scarpa che ha fatto già tanti chilometri io ho preso questa perché questa è la mia scarpa per i lunghi e con questa io ci ho fatto già 800 km ecco se Riccardo avesse fatto 800 km questa scappola sarebbe già probabilmente infortunato perché lui una scarpa di questo genere la può portare secondo me fino a 500 perché l'avrebbe totalmente consumata qui che il materiale non è comunque tantissimo invece io che ho un certo tipo di corsa non vuol dire corro meglio corro peggio semplicemente consumo la scarpa in una maniera più omogenea vedete il consumo è più qua c'è un po' di consumo qua leggero ma tutto davampiede qua è quasi perfetta cioè c'è un po' di consumo ovviamente per i chilometri che ha fatto però questa è una scarpa che io utilizzo ancora non la butto è ancora perfetta la Tomaya è perfetta se iniziate a vedere delle ecco qua un po' si può vedere vediamo se l'autofocus mi aiuta vedete questi taglietti qua ecco questo è sicuramente l'intersuola che inizia a sentire un po' i chilometri però è ancora ancora ammortizza però più ne ha l'intersuola e più vuol dire che l'ammortizzazione inizia ad andare poi la suola sicuramente è un punto perfetto per vedere come sta la scarpa così come anche la Tomaya se la Tomaya ha dei buchi vuol dire che la scarpa è da buttare non correrete con la Tomaya con i buchi purtroppo ho visto tantissimi altri tipi da fuori che perché amano la scarpa magari pensano io se c'è un buco nella Tomaya la butto via perché il fatto che c'è il buco vuol dire che non avvolge più bene il piede e quindi può essere un problema detto questo se vi è piaciuto questo video per favore mettete un like se non vi siete ancora iscritti al canale per favore fatelo ricordatevi di supportare il canale se volete o attraverso una donazione andando sul sito ascoocore.com oppure passate dal nostro shop ci sono diversi gadget secondo me molto carini tra l'altro ce ne sono nuovi in arrivo dopo l'estate e detto questo mi raccomando correte e fate l'amore ciao 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 ciao